Oh carissimi amici del canale di Luigi, ci troviamo sempre a Fondi, questa è Piazza della Repubblica e abbiamo questa chiesa molto interessante, chiesa che presenta un portale quadrato e sopra il quale c'è una lunetta dove invece di esserci un dipinto fresco ci sono delle statue. Vediamo che comunque è molto bello questo portale, finemente riccamente decorato, le sculture sono opera di artigiani assolutamente magistrali e vediamo che c'è anche il campanile, campanile con l'orologio e le campane in cima, quindi questa è Piazza della Repubblica di Fondi è molto interessante e anche perché c'è anche un obelisco, obelisco non egiziano, un obelisco più moderno ma comunque interessante. Quindi venite a Fondi e visitate questo posto, ciao!